Blitz della polizia locale in un edificio disabitato in via Cimone a Vicenza. In seguito a diverse segnalazioni da parte dei residenti della strada e alla denuncia presentata dai proprietari, gli agenti del nucleo operativo speciale delle pattuglie antidegrado intervengono nel caseggiato accertando che effettivamente i lucchetti di sicurezza posti dai proprietari sono stati rotti e sostituiti con altri. Tutte le stanze sono state setacciate dagli agenti che hanno riscontrato giacigli di fortuna e la presenza di una donna di 48 anni e di un uomo di 36 senza fisse dimora che vivevano tra residui di bottiglie di plastica, filtri e carta stagnola per l'assunzione di crack oltre ad avanzi di cibo in stato di decomposizione. Nel sottoscala sono state recuperate alcune biciclette di cui si dovrà verificare la provenienza. Le due persone sono state fotosegnalate e indagate per occupazione abusiva di edificio privato. I punti di accesso della casa, che verrà ristrutturata, sono stati chiusi.